Bentornati amici indiani Bentornati amici bullsi anche Che hanno un po' li tozze E sono un po' intesati 1-5 è il record della nostra bellissima squadra Che brutto record Abbiamo perso una brutta partita con i Detroit Pistons Se ora rifarci contro gli indiana sarà tutt'altro che semplice Ma che hanno gli indiana scusa? O la lipo E basta che squadra di merda possiamo farcela O la lipo 62 punti Proviamoci A palla 2 con questo bellissimo simbolo pacer sotto In questo campo chiaro Ma è centrato rispetto alla lunetta Questo mi crea dei problemi Ma che è? Pronti via un fallo immediato Gli è scoppiato il cervello quando è il carta giugno? Non ce l'ho mai avuto Ci siamo giocati subito? A quanto pare Sabonis Io pensavo non avessero nessuno Hanno tutta una squadra di overall incredibili Ma l'overall non per forza vuol dire qualcosa Solo per noi ma per loro Tipo guarda che bene che difende il Markhan Anche se ha un overall Grande Markhan Ma si chiama Markhan se non difende bene lui Marco Markhan Guarda White come riesce a mangiarsi bene questa palla A quanto pare si Eh va bene l'ho perso io O la dipo schiaccia una mano da metà campo Eh o la dipo è l'unica cosa che può fare Ma non credo che sappia anche tirare E anche cucina bene la passa asciutta Mi hanno detto Ma cosa cazzo stanno facendo? Non lo so Stanno facendo un po' quello che vogliono Bel tiro piazzato Si ma un airball devastante di White Ma cosa cazzo stanno facendo? Eh ha tirato malino devo dire io però Ho capito io ma... Da questo va tirare un airball Bragdon Siccome se ci organizziamo un attimo difensivamente lo lascio infatti Si dobbiamo fare quello perchè Sabonis ha anche il tiro? Forse si Ma ma come si sfida male Secondo ribalzi Markhan Si Ti porto un blocco con carterone Non serve Stavolta va fino in fondo White Spreca tutto il turbo in queste tre azioni Ma alla fine ne mette due L'importante è quello va perchè Si Ma in realtà secondo me se difendiamo discretamente qua Tipo non così Qualche chance la potremmo avere Guarda per noi no Si si te lo cambio Ok Warren Contro Porter Warren Buffett Porter gli passa in mezzo White da fastidio Eh qua è stato un po' casaccio Eh si è avvitato bene lui E Markhanen prende un rimbalzo insperato E' il centesimo rimbalzo di Markhanen in questa partita La VIN ha due mani La VIN vola E' più due Chicago Guarda il carter junior torna indietro Io difendo con Savoni se ti lascio White Se dici Eh porta su Pa Che cazzo è successo Non lo so Passaggi a casaccio E poi spara una tripla Turner Turner non tira la tre Si E ancora la VIN Si fa stoppare Si fa stoppare Si fa stoppare da un volante o la dipo Eh beh o la dipo effettivamente però Si Non so se abbia le stoppate al suo arco Stoppa schiaccia cosa che faccia Sotto arco un po' la dipo ma Si anche perchè è rognosissimo Markhanen Oh va fuori Markhanen su questa spinta Grandissimo Grande Te la passo io fuori se dici Ok Così ci organizziamo un attimo con calma La tengo un po' Guarda sopra se vuoi La VIN Lo guardo Chiamo il blocco di Markhanen Te lo porta Mmmh cos'è che brutta Non so fa una brutta cosa Una bruttissima cosa Prendo io Brogdon con White Si Io provo a prendere Warren Eh questo è un canestro facile però Eh si è ritagliato bene lo spazio Sali tu con White Salgo se non va fuori dal campo magari sto scemo Vediamo cosa Cosa chiamano Ti vengo a fare blocco Grazie Faccio un blocco con No vai vai Bella giocata Bella giocata Bella giocata Fili in fondo di White Che scarica poi su Wendel Ci sta tutta Turner Brogdon Ti lascio Si In penno io In comando difensivo Ma White veramente inutilizzabile in difesa Eh parecchio tosto Non riesco a stargli davanti mai Uh la VIN la tocca passando Dammela se vuoi Ando a Carter Junior Occhio Parla a la VIN se vuoi Vemmi vicino Ok Faccio un blocco Vai vai Da lato giusto se riesco Ok Cazzo si era Ha fatto benissimo qua Grazie Te lo tengo fermo Eh però sbaglia la VIN malamente qua Ma tutt'altro che è preciso la VIN Un tiro abbastanza semplice secondo me Si è una situazione abbastanza sporca quella che si è venuta a creare Si però un tiro Era irresistibile voglio dire Si anche perchè lì era comunque una superstar quindi dovrebbe farcela Si Aspetta palla in punta ma poi si sposta Vediamo cosa chiamano Non chiamano niente Allora fatti un blocco stai fermo un attimo? Si Aspetta Porco zii aspetta Vai fino in fondo Cazzo com'è stato veloce a riportarsi su di te Si si no quando saltano Poi atterrano alla velocità della luce e fanno tipo a risaltare Queste cose non corrispondenti alla vita vera devo impararle Questa non poteva essere Se vuoi Lo vedo Ma andiamo una pesiata Rallentiamo un attimo Bella Eh questa era facile Sono due punti facili Si sono ritagliati non si sa come un corridoio Per fortuna si Le riserve sono già tutte inchinate pronte ad entrare E quindi faccio un fallettino così entrano Bella idea Brogdon gli mettono le mani in faccia Bogdan Brogdon Holiday Eschewy Holiday Sempre Natale per lui Time out dei Pacers Ma che senso ha vabbè Cosa? Potremmo chiamarlo prima di rimettere la palla Ah non ho capito perchè hanno fatto questa cosa in effetti Cioè Felicio non lo mettiamo mai Eh perchè è una pippa per esempio Povero Cristianito Grande Cristianito Felicio Cristiano Felicio A cerimo nemico di Dumboya Della partita precedente Perché? E' Cristiano Guarda che Mcconnell Prova contro Gafford Che è grande il doppio Salta a caso Cambia Cazzo Io so Cerco di anticipare delle intenzioni che non esistono Dan contro Holiday Satanaski Un possesso molto confusione dei San Antonio Noo che fallo Chi l'ha fatto? Il Young Perché è liberi? Non si sa Mannaggia Addirittura Eh beh certo l'ha fatto lui Però Leaf sbaglia Grande Alla grande elettrica Giustamente Piace sempre Sono 4 secondi e 4 Nel cronometro Beh si segna questo Buona difesa Satanaski c'è ed era solo Te l'ho passata per sbaglio Puoi ridarmela Vediamo un po' cosa ci propone la CPU La perde Satanaski Poi la ritrova Gafford Una difesa ultima qua E poi appoggia un ottimo canestro Gafford è stato abilissimo Perché Leaf aveva fatto una grande difesa È stato lì Attaccato alla sua postazione di ricarica Non si ha mosso di un centimetro Bravo Leaf 34 secondi McConnell Contro Dan Lo manda al bar Molti crossover di McConnell Ah si con Leaf Un parco auto notevole di questa squadra Precisamente Young Dan respinge Leaf Quella tripla tentata Ma non riuscita Usciamone con un attimo di Abbiamo 13 secondi per questa azione Provo ad andare in angolo se riesco Ma non ci riesce nessuno A quanto pare Gafford Due facili Appoggio al tabellone Più 6 Chicago Bulls Provano mini a lungo su Indiana E li abbiamo tutti a 6 punti nel primo quarto Mamma mia È una buonissima giocata questa di tenere i 6 punti nel primo quarto È una ottima giocata Sì Penso che hai fatto tutti i 2 punti nel primo quarto Perché? Non mi pare di aver preso i tiri Io ne ho sbagliati tanti Uh ok boomer in campo Giustamente Faccio io da portatore di palla Portati la palla Portatore sano di palla Bravo Vediamo che cosa chiamano Mi chiamano Mi chiamano Che deve andare dietro di là Adesso mi chiamano che devo fare così Beccare Un Gafford che va in 1 contro 1 contro il piccolo Eh no viene addoppiato Uhhh il teletrasporto No la Gafford è TJ Leaf Che cazzo di no? Veramente si chiama TJ Leaf Trenton Jeremy Foglia Eh certo Gafford 2 su 2 Meraviglioso Gafford Ti lascio come sempre Si Il lungo E ti faccio notare che l'ala piccola che è Young Markham McDermott Grazie Doug McDermott Quindi io prenderò Prenderò Gafford se riesco perché va sotto Uhhh attenzione è bella difesa Le hanno difesa di Bush C'è l'imbalzo di Dunn che è specialista Oh bellissima guarda Satransky Cazzo Eh c'è sempre questa cosa E dammela dammela Faccio un blocco visto che sono qui Uhhh E' vero ce l'ha Comunque E' sempre l'alto il tasto che devi dicere Eh sbaglio spesso Ti lascio Se riesco in lungo Grazie Holiday Se lo perdere lungo il blocco Cerca il cambio Eeeh ha preso Slancio Si è tagliato lo spazio Ma è incredibile più che altro Io tengo Dunn Vediamo cosa ci chiamano Si Non ho capito che cazzo devo andare in compendio Anch'io Devo tagliare di qua si Come cambiano posizione Sei contro il piccolo No non sei più Prova la tripla dan dalla distanza Ormai hai fatto anche bene Perchè non Non è un grandissimo tiratore purtroppo Lamb Prova a immolarsi lamb Eh vabbè ma si teletrasporta Eh ma questo è un gran movimento devo dire Come fai Ma è un movimento che non esiste in natura quello lì Non so neanche passi Non ha più appoggiato il piedi per terra Si è spaventato Dan accelera nel frattempo Dan per fortuna Accelera appoggiare il piede 2 Facile facile Prendo sempre Gafford Per marcare l'IF Tu sei sul buon Anton Holiday Veramente? No Non mi è completamente inventato Gafford chiude bene Holiday Questo tira anche Mamma mia stava per arrivare una stoppata Di quelle che si ricordava per un pezzo Non cadere Gafford Ma come combatte Gafford Poi purtroppo a un certo punto la perdono C'è nessuno che ha dato a tagliare la mano Yang dove cazzo era? Eh eh Stavo ordinando una birra al baracchino dello sport Eh giovinotto Typico baracchino dello sport Vediamo Guarda che devi venire sotto Eh ci sto provando Vai fino in fondo Eh va bene ma sei una scema Tu vai fino in fondo Una scemo sei Però intanto Satanaschi appoggia L'appoggiatore è Satanaschi Si Gli appoggio con uno sberlone Se lo fa ancora però Ma che riprende Dan? Lo prendo Dai è che prendi confidenza con i tasti Eh McDermott mi fa tipo Abbatte un fotografo Non l'ho betta Mi ha detto dritto addosso col ginocchio tipo Lamb E Gafford Prende anche rimbalzo Gafford Poi la spara via Si Eeeh Ma che brutte animazioni questo gioco Mamma mia Si ultimamente sta succedendo un po' di cosa a caso Più 10 intanto La rimette su Lamb Valentine Bravo che hai preso Valentine Timeout Pacers Più 10 Chicago Si sono spaventati Questa volta non la dobbiamo lasciare sfuggire di nuovo come abbiamo fatto con i Detroit Si sono spaventati perché hanno visto che ho preso il giocatore Non succede mai che riesca a farlo subito A prenderlo entro i primi 10 secondi dell'azione difensiva Eh stiamo difendendo anche discretamente bene Così mi costringono a rifarlo però Ci provano Gafford Prova a dar fastidio un po' Eh Mamma come mi è saltato bene la dipo Ma arriva in aiuto Valentine Che pena che rimbalzo Si è arrivato in aiuto benissimo Eh ero lì Ma non diminuirti così Sono rimasto in aiuto Bella giocata ma è lenta Eh Gafford Eh è arrivato appoggiato un mattone Lui ha le sue mani educate No Eh questa è tripla Eh si Queste sono tre Guarda non c'è nessuno dei loro Rientrano anche i titolari Che può andare a rimbalzo queste entrano Allora se vuoi Dan Lo vedo Vediamo cosa ci chiamano Il nostro schema che ci piace tanto Si Vediamo se ti fa tornare Si Un passo dentro Bravissimo Gafford non riesce a collare a rimbalzo Dan può fare l'unica cosa che può fare contro la D può provare a rubarla E' stato Nansky salta storto se no era lì Certamente Rallentiamole con calma Si Due brutte azioni ma possiamo dimetterci La pelle Gioca a 2 e scarica direttamente su Nissan Leaf Eh scusa non ero messo Tu vada a 25 mila euro Ma Young Disturba gli avversari e poi escono dal campo ai traditori finalmente Era ora Si Tene marcando 22 a 17 abbiamo perso qualche punto nel frattempo La passano sul petto di Decker Jr Però è talmente grosso che la spazza via Grosso e goffo Groffo Attenzione Sabonis Fintone Che la 3 da mano Mannaggia Ho preso l'uomo sbagliato 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 Ho dei problemi Proprio lui Apparente probabilmente di Anthony Oliver Anthony Kiddis Anthony Kiddis anche Anche Dai dai Brogdon un altro passo Wendel Carter Jr Markhamen su Sabonis La palla andrà sicuramente nelle mani Sapienti di Oladipo Che mi ha saltato come un birillo Sto sapiente di merda Io ho perso l'uomo sbagliato Ho preso l'uomo sbagliato Facci che non sa tirare evidentemente Brogdon Quanto pare Rallenta rallenta Rallento rallento Mi sono andato addosso Vabbè vabbè non importa 30 secondi White contro Brogdon Riesci a tenere momentaneamente Capisco su cui devo andare sti segnalini di merda Prendi White Sabonis contro White Giustamente C'è stato un cambio Uh O la Dippo Tira da qualsiasi posizione Vabbè facciamogli guadagnare sti 2 punti Che almeno li faccio in lunetta Abbiamo 8 secondi e 9 per Tentare un ultimo carrestro Cazzo ci hanno mangiato tutto il vantaggio Non importa Scede Vai Zack è il tuo momento La tua velocità Tu e della tua velocità Esatto Ah Sabonis però lo sapeva Molto fulbo Sabonis Sto stronzo Sapeva anche di non essere in bonus evidentemente La Vim prova un tiro insperato Non brutto Non brutto Dafford i suoi bellissimi capelli in panchina Beh si sono realizzati con maestria dai più sapienti moderatori poligonali 3D Non che parrucchieri nella vita reale Beh si sono obbligati a fare il doppio lavoro Chi è questo? Kawai Ha i capelli di Leonard La facciano a schiaffi Di Leonard No però È il più buono del mondo Ha riso solo una volta così Eh perché è un po' L'hanno preso per il culo Tutti non ride più Ed si è depresso Di brutto È un po' più serio del mondo Kawai Grande Kawai Mi fateva questo legal parquet con sta bicicletta del cazzo Ah è che ha le ruote di acciaio inox No ma sono chiodate Non sono gli acciaio ma sono chiodate Eh qua ti ha ammaccato bene Va fino in fondo appoggia male Porca miseria Brogdon Tutta colpa mia sta canestro Ho fatto una micchiata Insomma Mi ho fatto andare via Brogdon con troppa facilità Ok Al netto di questi due punti pessimi che ho concesso Vediamo di riprendere un attimo la calma Eh 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 vabbè sono netto Però se ti fermi un attimo non so cosa Eh se non ti fermi Ok Eh vabbè qua Ho perso troppo tempo io senza sapere A correre in giro Eh si Devi un attimo rallentare Ma non sai cosa fare Fermati Non sta a correre perché sennò non riesco anche a merti vicino Guarda che cazzo di rimbalzo che abbiamo perso Si perché è rimasto un quarto dura sul ferro e Si porta in vantaggio indiana Per la prima volta forse dall'inizio della partita Ah si con Kawaii Warren Grande Kawaii Warren Palla va alle mani sapienti di White Si beh va via Beh insomma Addirittura In Italia White Sono un po' in difficoltà La fin Te la do Prova a sfruttare la velocità perché non so cos'altro Ma se mi scappi così Amico Wendel Mi stai costringendo ai tiri più difficili Wendel Carter Junior Prova a tornare Torna bene Wendel Carter Eh Eh vai vai tu Eh ci siamo dai Fortuna non ne hanno approfittato No Troppo distante sono stato Taci che hai sbagliato Eh purtroppo faccio fatica a seguirli sul block Vai vai Lavin vai fino in fondo Eccolo la il fallo di Brogdon Che può far respirare un po' i Bulls Speriamo che segni Lavin Il primo no Mamma mia ma come fa Non ho mai sbagliato questi tanti liberi con Lavin Come Eh Sta stagione Sono liberi che pesano Perché poteva essere il pareggio Se le partite giocate Neck and neck Come dicono loro Ma che dicono loro? Non lo dico più Perché mi vergogno Non credo neanche l'abbiamo mai detto Eh lo dicono ma probabilmente non sono in grado di dirlo Forse lo dicono solo in Kentucky Nooo Ma guarda questo che mette anche la tripla in uscita Mi agnello Ma aveva fatto un cazzo finora Grande Eh Questa che azione è costruita Rispondiamo con un'altra giocata a caso Dizio io muoio All'ultimo rampollo della famiglia Agnelli Che aveva permesso Ce l'ha permesso di mettere una tripla Lavin riprende bene posizione Difende bene Gianni Slam Ma poi Ma Gianni Slam maledetto Ma Gianni Slam maledetto Si è piantato a un certo punto Lui che suon orologio fuori dal polsino Perché? Eh Gianni Slam È lui Esatto È l'unica strategia che possiamo avere in questo momento in difficoltà Stiamo affidandoci un po' troppo su queste cose Che tra l'altro sto sbagliando con buona frequenza Devo tornare concentrato Sì Difesa L'attacco Riprendo Lamb Se riesco Con la win Preso C'è nessuno C'è nessuno perché hai tenuto Markham in fermo a metà campo Eh ma se non si muove Deve capire che io lo sto prendendo per sbagli scusa Buona difesa di Markham Di Wendel Guarda Zack No sposti Vabbè mi cavo Sei contro piccolo vai Te la mangi no? No Oh vai Non hai proprio fiducia in me Cazzo Sei tu che tiri già Come no? Tu fai tirare il giocatore ma No ma io non hai visto che con il telecomando in mano Con il giocatore che sta facendo Ah Mimmi la cadenza del gancio Certo certo Vai vai stai Sto su Lamb Che è in forma Io vengo su Sabonis Che è l'iffo E che salta a caso Vabbè Sì ma sono movimenti che non esistono Soprattutto quando ti metti di lato Sempre riesci a prendere bene L'iffo Bello il cattivo tempo Sì perché Markham ne lo fa fare Se sapessero che è un giocatore che in realtà inquina molto di più degli altri Si smetterebbero di puntarsi di lui Vado sotto con Anzi aspetta un attimo Sì Non ti preoccupare Hai fatto una buona giocata qua Anche McDaddy Ha stato un punto in cui Porter era libero da 3 da solo Beh non ho visto Una buona giocata magari contro il piccolo e la vai per la sicurezza Cazzo ma io ho questo tizio qui Si Con Wendell Non so che tipo di scambi ci siano stati Vabbè gli sto largo Vabbè gli sto largo cosa vuoi che ti dica Si Hanno un quiz strano loro in campo Ancora una volta anche se nella partita scorsa avevano usato questa strategia Ah buonissima difesa ma che canesta ha fatto questo Un canesta incredibile ha fatto Devo mettere sti cazzo di panchinari perchè stanno morendo i vittorari Buona giocata fortunatamente ha portato a buon risultato da Mark Cannon Trovando diversi mismatch per fortuna che ci stanno favorendo Ciao ma se metto un acquitetto piccolo in difesa magari non ci capiamo benissimo ma in attacco cazzeremo sempre contro i piccoli Teoricamente dovrebbe essere così Non è che La lascia l'if Che non so se tira la 3 Uh ho lasciato l'embo Eh non può mica metterle Eh ho capito ma Mark Cannon non fai un tagliafuori neanche se sei da solo cazzo Io questi cacchio di tapì infatti così mi fanno rabbrividire Non so io non capisco perchè Mamma mia l'ho ammazzato Si ma non capisco perchè Mark Cannon non riesca a fare un tagliafuori mai Uno che sia uno Oh Ah perchè è un lungo bianco fa un po' fatica probabilmente Si ho capito io che è un lungo bianco ma è una sega Bianca però Ah comunque è bianco ma è sempre una sega O la dipo contro uno stanco la vin Sabonis Altro Gafford Ok mi becco il blu Uh difende bene Dun Io no però cazzo Vabbè non mi importa Guarda la vince poi Bella Si Gafford prende il fallo da dietro e Sabonis Deve andare a schiacciare di cattiveria qui Anche perchè nei liberi sappiamo che è deficita un po' Preso il modello base di Gafford Bravo Madonna neanche arrivando a un millimetro Si Ma a volte più ti avvicini al verde più c'è possibilità che sbagli Non capisco per quale le... E questo? Questo è Valentine secondo me Sono abbastanza convinto Può essere Blocami per piacere Eh non sono riuscito Guarda che data sotto la nascita Eh era bella era se avessi capito che la dava a quello Chi è che ha fatto tre secondi? Forse avevo io qualcuno Ma porca puttana Young Cazzarola Mi sembra strano però può essere Non escludo mai un mio errore in nessuna azione O la dipo Terrà l'ultimo possesso più uno indiana Cioè facciamo il quarto quarto dove se non ci diamo una svegliata Eh lo so Ci fanno E poi inizierà a fare cose a caso Sì per quello Tipo questa Eh questa è una bella giocata in realtà Prova a farmi un passaggio un po' più lungo Prova Ci prova Mamma mia Poteva pareggiare i conti Un mezzo secondo in più era libero? Un mezzo secondo in più avrebbe potuto anche Mettere magari i piedi un attimo meglio E tentare una tripla un po' più decente Un'esperazione di passi Lo faceva senza balleggiare Aspetta che mi aggiusto un attimo Non esistono più i passi da molti anni ormai Kawaii Guarda come la mascotte passa e tocca il culo di tutte le ballerine Eh boomer Giustamente Io vorrei prendere Non capisco degli accoppiamenti ancora Sono strani C'è Dan su Turner Eh loro puntano molto su questa cosa Sì Warren Eh Da tre? Sì Ma cazzo ma ti erano tutti da tre? A occhio Sono venuto a marcarti Dan Si avvita bene Abbiamo veramente avuto un'escalation negativa Li avevamo lasciati a secco il primo quarto Wow Ma perché mai c'è sto cambio difensivo schifoso? Non so A valutare bene i quintetti per capire se è colpa O la Dippo Gafford Pollo si è fatto portare sotto Eh questo è un piazzato Sarà una grande difficoltà a difendere con Valentine su o la Dippo Sì anche perché è il quarto quarto Sì E Valentine perdiamo tutti i secondi così oppure fai qualcosa di utile? Una scampagnata per il buon tenzo Maledetto Che cazzo di movimento è quello? Dai prendi blocco Ma addio No madonna Gafford sbaglia completamente Posizionamento Si posiziona male e Valentine sbaglia completamente e passa Sbaglia completamente il mestiere Se beh Valentine è veramente scarso Abbiamo fatto una pipa mostruosa su questo gioco In realtà non ho ancora capito se giochi o non giochi Una pipa mostruosa Che passaggi Stanno accoltellando Stanno andando via Eh quarto quarto O la Dippo ovviamente è sempre il finalizzatore Cerco nuovamente la calma Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di utile Bravo prenditi bene Eh Guardate questa volta gioca bene ma poi Si ma basta che ci sia una mosca in aria Ma perchè non schiaccia Almeno Sabonis Contro Gafford Si gira sul niente Arriva Valentine a dare fastidio Ma non prendono un rimbalzo mai Eh E ora tipo la 3 ha aperto Eh vabbè Eh è arrivato il coltello Cose a caso comunque abbastanza eh Abbastanza si Dobbiamo rimettere i titolari subito Eh mettiamoli Sennò sono già anti via Faccio blocco Vai Eh vabbè La tenuta almeno Si ma poi si è piantato Eh i nostri smettono nel quarto quarto Purtroppo si danno ad altri sport Che peccato Diventano più forti Vabbè La partita scappa di mano E adesso neanche i titolari mi sa che ci possono salvare A meno che non riusciamo a innanellare una serie di difese devastanti Ci proviamo Per forza Il problema è che quando si sotto di tanto iniziano a deprimersi e non fanno più una sega È chiaro Sono anche tra l'altro morti i nostri Ho fatto un blocchettino che Eh vabbè Però in qualche modo Io non capisco cosa stia succedendo Sei da solo? Come fai a sbagliare? Eh Non lo so Warren è infuocato E io non perdo l'uomo È stato anche veloce a chiudere la win Devo dire la verità Perché ero molto in ritardo Bella giocata qui White prova a entrare Tutta la squadra contro Carter è posizionato malissimo Va dentro Eh vabbè però l'ho fatto saltare È stato bravo Carter questa volta 12 punti Sono tanti Ma ci proviamo Proviamo anche qualche rubata In più Partiamo bene Ma poi facciamo fatti Il quarto quarto Sì abbiamo un momento del passaggio vuoto A fine Terzo quarto All'inizio del quarto quarto Abbiamo un momento veramente di Che fatalità Il momento in cui loro iniziano a diventare Loro crescono chiaramente Loro crescono chiaramente Due punti veloci È quello che ci serve Ma due minuti e venti Sono veramente pochi Sfrutta un po' il bug Di questo gioco Quando ci serve ogni tanto Possiamo trovare Ma che cazzo però Vabbè Molto più bugato Avere Eh va bene Ma che cazzo però Su Ola Dipo Superstar Lo potevamo sapere Che finiva così Con un Ola Dipo Devastante Basta il primo Ola Dipo che passa E diventare il superstar Siamo fottuti E contro le bronco Che succederà Eh vedrai la prossima cortita Porca puttana Peccato Abbiamo Abbiamo margini di miglioramento Ma Sì in teoria sì Se io imparassi anche a tirare tipo Beh vabbè non è facile adesso Non ho fatto molto meglio di te Va buttiamo una riscazzottata dai Va a fare culo Sì dai Non ti rendono tutti lunghi Cornet No sai cosa Felissimo felissimo Ammazza tutti Schiaccio Schiaccio la combinazione dei pugni Mamma mia vabbè Che ci vuoi fare White vuole Chiama la palla Nonostante la stanchezza La riceve Che cazzo vai Che cazzo white Brutta giocata ai white Bruttissima giocata ai white E' un po' Oh Guarda come stanno tutti dietro la dipo Senza dargli minimamente fastidio Tutti dietro la dipo E' un po' quello che potrebbe essere il titolo di questa No è La dipo dietro a tutti Più che altro Il titolo di questo gameplay Ci ha regolato Poi nessuno marca Visto che non aveva mai segnato E' diventato mio E' lo sottocanestro Porter Vuole provare ad andare fino in fondo Porter Guardami Chi deve guardare? E' il mio Ma è bruttissimo Arriva l'ennesima mattonata di white Che non è decisamente in serata Partito che ricordiamolo con un airball Si tra l'altro da libero Si Perché devo marcare? C'hai tu la? Ma che c***o? Non si capisce più di niente Cioè le frecce va Girono a caso sugli uomini Non so dove andare Finisce sul più venti indiana Una persa che ovviamente non Si ma possono anche fare con uno dei nostri Pazzisce e vai direttamente a sedersi in panchina Visto che Vai dietro White prova la tripla Meno 16 Eh vabbè ma sono alla fine Ho scoppiato il cervello Almeno sono riuscito a segnare con white dai Magra consolazione Eh qua Fallo tattico Così la vip Il cartellino giallo per lui Eh si Ci sta 28esimo punto Ma che è Ma che è vp? Sarà dobbiamo nvp nvp? Sti imbecilli Eh ci può stare nvp 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 perché ha fatto 30 punti Si ho capito La dipo Guarda questo non riesce a schiacciare neanche da solo Non riesce a schiacciare proprio Eh un danno che si muove Marcanne ragazzi E' palesemente dell'anello debole della nostra Della nostra Della nostra quantità titolare Eh si C'è neanche Autoporter non fa così Ma a me lui è anonimo Sta là in un angolino Cazzo abbiamo anche Autoporter il capo Ma l'ho dimenticato Ma sta là in un angolino anonimo? Eh ce l'ho riuscito per quello A non credere che fosse lui il più scarso Ma adesso mi fai pensare che lo abbiamo Si Fatto lo stesso a chi non me lo ricordi Calazze E' lui? Si Chi è Abitazze? Non lo so Cacca Abitazze comunque Allora dobbiamo Tirati un pugno dai Eh Ruba palla white per le statistiche Tipo l'info Palla persa Viva il gasolio Che brutta partita abbiamo fatto Era massi discretamente Poi alla dipo ne avessi solo 29 Cazzo la vi neanche in doppia cifra Che triste partita Eh ma è la dipo che ha fatto la differenza Ma direi I bulci che stanno crescendo No noi stiamo crescendo un po' Stiamo imparando un po' a giocare Io ho delle difficoltà Forse il fatto che io riesca a giocare È dovuto al fatto che lascio fare a te No non è vero Ci sono dei momenti qui Abbiamo dato del grande basket I momenti in cui Molliamo un po' la maniglia Loro ci beccano col partialone Poi il quarto quarto Loro diventano veramente invincibili Ci sta anche nella realtà E' così Però noi no Però secondo me se riusciamo a tenere Adesso vabbè i Lakers ci asfalteranno Ragazzi il prossimo gameplay Guardatelo perché farà ridere tantissimo Ma dai ma non è detto I Lakers ci asfalteranno Però poi abbiamo Atlanta che è abbordabile Ci sono i Rockets che non sono impossibili Ci sono i Microbockers che I nostri amici New York I Rockets non sono impossibili? Non sono impossibili I Rockets A parte se vecchi Harden in giornata folle Però puoi puntare tutto su Westbrook E' realistico anche Westbrook? A volte Va Vediamo Quindi sì Secondo me abbiamo comunque delle buone possibilità Per recuperare C'è Giannis Anche lui non è assolutamente impossibile I Brooklyn se c'è Durent Sono molto difficili Vabbè Vedremo Vabbè ragazzi vedremo Vedremo cosa ci riserverà il futuro Intanto ci saranno i Lakers che ci faranno Parecchio imbufalire Vedremo 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 Vedremo